Alfredo De Angelis, nuovo allenatore del CUS Rugby Perugia, oggi è stata una partita combattuta contro una squadra molto forte, il Noceto di Parma, quindi insomma avete fatto comunque bella figura. Sì, non mi aspettavo che i ragazzi fossero già a questo punto, è stata un'ottima prestazione, devo fare i complimenti, probabilmente il più scettico e titubante ero io. Abbiamo perso un'occasione ma forse seminato e tracciato la direzione giusta per un campionato che potrà farsi più divertente nei prossimi giornate. Anche perché questi ragazzi sono molto giovani, un gruppo quindi che deve amalgamarsi, imparare, ci sono giocatori nuovi, che potenziale ha questa squadra secondo lei? Vista oggi c'è un futuro sicuramente di divertimento e di piacere nello scendere in campo e giocare vis-à-vis con qualsiasi squadra. Il comportamento è quello giusto, hanno provato fino all'ultimo istante a marcare i punti, hanno risposto ogni volta alle marcature avversarie, abbiamo commesso degli errori, questo ci darà modo di sintonizzarci durante la settimana per cercare di fare in modo che per Prato, che è la prossima in campionato, sia più difficile marcarci i punti. Siamo a partita ancora più dura di quella di oggi. Ci dobbiamo divertire in campo, penso che si sia visto e bene è così. Quali sono quindi gli aspetti sui quali lei punterà nei prossimi giorni? Forse, probabilmente far vedere la partita come la vedo io, per un insieme di motivi. Capire quando faremo allenamento perché faccio un tipo di allenamento e sintonizzarci tutti sulla stessa direzione. Io capire probabilmente quali sono le sensazioni in campo dei miei giocatori e cercare di supportarli mettendoli nei condizioni di fare bene. E, ripeto, penso che oggi sia un buon inizio. Un'ultima domanda. Come vede e cosa pensa di questa realtà? Una squadra composta da giocatori universitari, ragazzi che fanno l'Erasmus, una cosa particolare? È un progetto, se così vogliamo chiamarlo, particolare perché ovviamente ha un'ambizione far giocare giovani e studenti a un ottimo livello. È un'ambizione e in più mette alla prova giocatori che devono essere professionali sia nello studio che poi dalle 20 di sera alle 22 quando sono con me. E quindi è un impegno importante e sicuramente è una prova che li metterà in grado poi di affrontare prove nell'ambito lavorativo migliori di questa.